Sì Sì è un po' forte bene, io sono due due è un po' forte bene è un po' forte oh no, no si, si, no la gente ha vinto a... lei è un po' forte è un po' forte è un po' forte ora, questo è grosso non è che non le affasso mia vado a me da sola guarda che siete minuti colito Poligno, hai chiamato un dottore e va all'impresa il dottore va all'impresa Mario, tu ti sottisci la bicicletta ma hai chiamato un dottore subito fammi una grande ritassata la bicicletta che non lo sbugga anche a piedi che mi fa, per te li essi pieno la tonta te li essi puugga la bicicletta non si mette per il capitano va, piedi, va la corsa un dottore, sono parola, anche un uomo tanto dio e lì, mi dico, lì ecco me ecco me ecco non so, mi sa che in piazza mi aveva detto che il dottore non mi sede una canola che non non ho mai Però, finché sono inizia, ho detto, porta sredde, no? Se non mi arriva a scesa, provaremo qui l'acqua e... Se non mi arriva a scesa, provaremo qui l'acqua e... Se non mi arriva a scesa, provaremo qui l'acqua e... Se non mi arriva a scesa, provaremo qui l'acqua e... E ora, sto dottore, ti ripassi o no? Niente da fare, se mi riesci a portare qua, tu che cura, è che a portare il compagno. Non mi arriva a scesa, non mi arriva a scesa, non mi arriva a scesa. Come vieni a scesa, come vieni? Ma fai quattro nasce, un posto? Ma c'è domanda, a c'è domande, non posso fare cosa? Ma in trezzo. Gli altri vintaci, beh, in grande, che fa? Mi viva atteso e mi viva atteso, ognuno lo suo lavoro. Gisola, campanella, che è buona tirare campane? Gisola, campanella, che è un altro lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.